www.redigio.it e la storia continua L'amichetta L'amichetta è il pane milanese, quello austro-ungarico, forse E lungo le strade si muove la gastronomia Anche quella minuta popolare, quella autentica delle feste della povera gente L'amichetta, conosciuta in buona parte dell'Italia come la rosetta O nel bergamasco come la stellina, è un pane semplice Nasce soffiato, quindi cavo al suo interno Poi successivamente l'amichetta viene riproposta anche piena nel suo interno Un panino riconoscibile con la forma del suo stampo a stella con cappello centrale Molto diffusa Lombardia Milano è la sua patria Il pane degli operai fino dal 1700 Epoca durante la quale la lavorazione del pane era tutta eseguita a mano E lo devo ricordare, lo so Ma l'amichetta ha le sue origini lontane dall'Italia I funzionari dell'impero austro-ungarico, cui faceva capo la Lombardia Dopo il trattato di Utrecht del 1713 Portarono con sé a Milano alcune novità alimentari Che i milanesi fecero proprie fino al punto da farle diventare un prodotto della loro tradizione alimentare Come appunto il famoso panino Kaiser Semmel Un panino variabile dai 50 ai 90 grammi e dalla forma di una piccola rosa Però i risultati di cottura del Kaiser Mel non erano incoraggianti A differenza di Vienna Si ramolleva presto e prima di sera perdeva tutta la sua fragranza e digeribilità L'umidità milanese condizionava la giornata del pane Bisognava privare quel pane della mollica, svuotandolo, alleggerirlo, renderlo soffiato Così sarebbe stato fragrante e digeribile, garantendone una migliore conservazione I maestri panificatori milanesi riuscirono nel loro intento Creando un pane unico le cui caratteristiche l'hanno reso famoso Ecco il termine michetta Nasce in questo periodo, infatti, i milanesi chiamarono il Kaiser Semmel Con il diminutivo di micca, ossia michetta Michetta è milanese La micca, o mica, era un pane che aveva una certa diffusione nell'Italia del nord E il cui termine in origine significava briciola Molto utilizzata per la preparazione dei panini farciti Tende a perdere la sua tipica consistenza croccante dopo poche ore della cottura Il pistrinarius, o prestinaio, significa fornaio È una parola ormai considerata dialettale milanese Ma anche della Tuscana e del Veneto E come tale viene utilizzata più spesso da persone anziane o in contesti popolari In realtà è una parola culturalmente elevata Deriva senza alcun dubbio dal latino pistrinum Che significa mulino, forno Pistrinum, a sua volta, deriva dal verbo pinsere Che significa pestare In questo caso la farina Ha dato origine anche alla forma dialettale veneta Pistut, il pensatore di granaglie Il pistrinarius era appunto il mugnaio E in italiano si trovano infatti anche le varianti Pistrinaio, pistore, pristinaro Inteso come grave, noiosa giornata, giornaliera, fatica E ora siamo alla ricerca dei volti e dei cibi genuini Presso l'amichetta, che è un negozio, di Porta Genova Genova è tornata non solo la storica amichetta Ma si ritorna a respirare l'atmosfera Della vecchia posteria milanesa E non solo Solo qui la prima trippa e la cassera Cazzuola, lombardo-milanese diminutivo Di cazza uguale tegame Da asporto A Porta Genova, in corso Cristoforo Colombo Potete riscoprire l'atmosfera della vecchia Milano E i milanesi chiamano la trippa Busecca Un termine che deriva dal germanico Buzze, viscere Passato poi in italiano come Buzzo, ventre Da cui discende il detto Mettersi di buzzo buono Che vale per Mettersi di impegno di buon arena Far Busecca In quel vernacolo equivale a Farmacello Mentre la parola Busechina Dicesi per vezzo del pasto ridotto a vivanda In realtà la Busecca è un coacerbo di trippe In brodo, sia chiaro Chiappa, che è reticolo Foiolo O centopelle La pietanza trae vantaggio della mescolanza E Ogni trippa Porta qualche caratteristica all'insieme E l'insieme è superiore alla somma delle parti Così si scrisse Quei Busecconi Dei milanesi Ne andavano ghiotti Tanto da meritarsi l'ingombrante non mignolo Che gli è rimasto attaccato fino ai giorni nostri Gli odori e i sapori delle antiche posterie e latterie milanesi E in questa reinterpretazione contemporanea Vi aspetta il salumeficio Pasini La linea pop di salume Campagnoli Curata da prestigioso cuoco Davide Oldani Poi vi sono i formaggi della Cascina Selva di Odzero Abbiate Grasso I vini di San Colombano Doc Rosso e Bianco Mossi o Fermi E le birre artigianali del Birrificio Milano Quello di Via Zante Matteo è l'ideatore di questa posteria di strada milanese E farcirà le vostre amichette con una deliziosa bresaura di spada e san daniele di tonno Con mostarda di verdure, senape e la salsa giardiniera Quando la giardiniera una volta era il classico antipasto brianzolo A l'amichetta di Porta Genova Tornate a mangiare ricordando il milanese I ricordi più lontani a volte sono i più nitidi E si riaprono ferite mai chiuse Eppure vivi solo per quelli Perché la tua quotidianità a confronto È sbiadita e scialba www.redigio.it E la storia continua